Quest'anno il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha emesso un'ordinanza che consentirà di trascorrere le festività in maggiore sicurezza. Dalle ore 20 della vigilia di Natale fino alle 7 del giorno 25 e dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio sarà vietato effettuare e fare effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi pubblici o ad uso pubblico.